Ciao a tutti ragazzi e bentornati a questo nuovo appuntamento nella sezione acquisti questi sono i miei acquisti che ho fatto all'ultimo Romics a ottobre qui a Roma appunto come vedete gli acquisti non sono stati sproporzionati mi ero andato principalmente per i Motuk per vedere se riuscivo a recuperare qualche Masters della linea classica ma non li ho trovati quindi ho ripiegato su questi personaggi di Batman della serie animata che questa è una collezione che vorrei cominciare a fare non so se li prenderò tutti, prenderò principalmente quelli che mi piacciono di più come vedete qui c'è l'accoppiata Batman e il Fantasma ho scelto di prendere questo Tupac perché il Batman presente qui è il Batman che fra i 40.000 Batman che ha creato la DC Collectibots della serie animata è quello che mi piace di più poi anche il Fantasma comunque è veramente molto figo poi ho preso lo Spaventapasseri che anche se non è che sia lo stile che mi piace tanto dello Spaventapasseri però devo dire che questo design è veramente molto figo questa è della nuova serie e poi ho preso questo Terminator della Nega che mi mancava era un po' che lo cercavo non riuscivo a trovarlo da nessuna parte a buon prezzo e al Romics sono riuscito a trovarlo eccolo qui l'Ultimate Edition del T800 fantastico con tutti i suoi accessori la sua bella scatolina proprio come tutte le versioni Ultimate e questi ragazzi sono i miei acquisti da Romics che poi piano piano andremo a vedere voi fatemi sapere cosa ne pensate fatemi sapere se volete la recensione di questi di questi oggetti e magari ditemi anche con quale iniziare così vedo un po' di organizzarmi d'accordo? bene ragazzi questo era il mio video acquisti come sempre vi invito ad iscrivervi al canale mi raccomando non dimenticatevelo ragazzi condividete le mie recensioni mi aiutereste veramente tanto lasciate un like se questo video vi è piaciuto e noi ci vediamo alla prossima ciao a tutti da Emiliano